Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20 e 30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. L'addio a Pepe Drago, oggi pomeriggio a Modiche, in un duomo di San Giorgio stracolmo di gente, molta della quale sulla scalinata della chiesa. La salme è stata poi portata in spalla dagli amici più cari per tutto Corso San Giorgio. Una multa da 225 milioni di euro per la Sicilia arriva da Bruxelles, che taglia le risorse del 2016 per 40 milioni di euro sui fondi europei a causa delle mancate bonifiche, delle discariche per lancio e colpa del governo regionale. Assistenza e trasporto studenti disabili, potrebbe arrivare una soluzione dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per sbloccare fondi per lo sviluppo e risanare il bilancio. Basterebbe applicare l'Istituto del Silenzio e Stenzo, intanto la CGL si mobilita. Sono atterrate le frecce tricolore all'aeroporto Piola Torre di Comiso, che domenica si esibiranno sul cielo di Donna Lucata a partire dalle 15. Tanta l'attesa nella borgata sciquitana, dove è previsto un pubblico da grandi numeri. Buonasera telespettatori di MTG, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. L'apertura, dunque, lo avete sentito già dai titoli, è dedicata ai funerali di Peppe Drago. Peppe Drago non temeva di essere sotto lo sguardo del padre, ma ha fatto un percorso straordinario avvicinandosi alla fede e dando grande testimonianza di coraggio e di serenità sino all'ultimo. Sono state queste le parole di padre Enzo Laporta durante l'omeria dei funerali dell'ex presidente della regione Sicilia, la cui salma è stata portata in spalla fino al baricentro, lungo tutto Corso San Giorgio, dagli amici più cari. Per noi sul posto c'era Marco Scavino. 17 e 20 minuti con una modica con il cielo coperto da nuvole grigie, il feretro di Peppe Drago sta per lasciare il Duomo di San Giorgio, un Duomo che non è riuscito, non è stato in grado di contenere le centinaia e centinaia di persone che questo pomeriggio hanno scelto di dare l'ultimo saluto qui a Modica all'onorevole Peppe Drago. Le cinque navate infatti non sono state in grado di contenere la gente che si è riversata a Modica questo pomeriggio per partecipare alla funzione e dunque tante le persone che sono rimaste al di fuori della chiesa ma hanno comunque ascoltato l'omelia di Enzo Laporta che ha ripercorso gli ultimi giorni di vita dell'ex presidente della regione siciliana. La funzione religiosa è stata concelebrata da padre Giovanni Stracquadaneo, dal vicario generale della diocesi di Noto Angelo Giordanella e da Don Enzo Laporta. A quest'ultima è stata affidata l'omelia dove sono stati ripercorsi gli ultimi giorni di Peppe Drago. Spesso, così come ha sottolineato Laporta, parroco dei cappuccini di Modica, Drago lo faceva chiamare perché sentiva il bisogno di parlare con lui. Peppe Drago non temeva di essere sotto lo sguardo del padre ma ha fatto un percorso straordinario avvicinandosi alla fede e dando grande testimonianze di coraggio e si è spento serenamente. Queste le parole di padre Enzo Laporta che ha vissuto gli ultimi mesi di vita di Peppe Drago seguendolo spiritualmente. Poi le parole della figlia Giuliana che ha ringraziato ogni persona presente perché suo padre lo avrebbe fatto. Il bene più prezioso che ha lasciato a me e ai miei fratelli, mio padre, sono stati i valori. Valori per cui lui si è battuto e la presenza di ognuno di voi lo testimonia. Un forte applauso ha scandito poi gli attimi di traslazione del feretro, poi l'uscita e la conseguente discesa di Corso San Giorgio. Particolarmente commovente la sosta dinanzi la casa natale dove il corteo si è fermato ed ha mostrato al portone il feretro e qui in particolare i parenti non sono riusciti a nascondere le lacrime. Il corteo si è snodato lungo tutto Corso San Giorgio sino ad arrivare al piazzale Falcone Borsellino dove è stato interrotto per caricare la salma sull'auto che l'ha accompagnata al cimitero. Oggi la città di Modica piange il gigante della politica. Un uomo che la storia oltre che viverla l'ha fatta e siamo certi non sarà semplice dimenticarlo. E adesso cambiamo decisamente argomento. 40 milioni di euro di risorse in meno del 2016 sui fondi europei a causa delle mancate bonifiche delle discariche. La batossa arriva da Bruxelles che ha condannato l'Italia ad una multa di oltre 470 milioni di euro all'anno perché non ha norma con la depurazione delle acque. Di questi 470 milioni 225 milioni saranno tagliati alla Sicilia. La Sicilia è condannata dall'Unione Europea a pagare multa e pari a 225 milioni di euro per le irregolarità nella depurazione delle acque e per le discariche abusive, tutto relativo al solo 2016. Annunciata, ma non per questo meno devastante, infine è arrivata la stangata per l'Italia da Bruxelles che ha condannato lo Stato al pagamento di una maxi multa da 470 milioni, 185 dei quali riguardanti irregolarità commesse nel tempo in Sicilia. I riflettori illuminano il sistema lento e degradante degli appalti isolani per la costruzione dei depuratori. Oltre un miliardo era già stato stanziato dieci anni fa per ben 40 gare di appalto mai avviate, ma che adesso si è affrettata a dichiarare l'assessore rifiuti, Vanni e Contrafatto, sarebbero pronte a partire. Era stata nominata da Roma proprio per rimediare a questa situazione in qualità di commissario straordinario, l'ha contraffatto, ma fino a qualche mese fa, ha proseguito, non c'erano somme in cassa per avviare le gare per le quali ora, invece, grazie a un decreto nazionale, basterà l'impegno delle somme per poter avviare la macchina. Il cantiere più esteso riguarderebbe l'incompiuto progetto del depuratore di Mister Bianco, un'opera monstre da 200 milioni di euro. Il progetto sembra finalmente pronto a partire, ma dall'ufficio a progettazione di Palazzo d'Orlean sarebbero stati mossi i problemi di natura tecnica, respinti al mittente dalla Contrafatto. Inguaiati anche 12 comuni siciliani dall'UE a causa della presenza sul territorio di discariche abusive. San Filippo del Mela, Cammarata, Racalmuto, Siculiana, Leonforte, Augusta, Paternò, Monreale, Mistretta, Cerda e Priolo Gargallo non avranno mai la forza di pagare i 40 milioni dell'ammenda europea e la regione ha fatto già sapere che non si accollerà il pagamento, ma che solo dal patto per la Sicilia potrà garantire solo alcune bonifiche delle aree. La maximulta dovrà essere pagata, in parte con taglie ai finanziamenti europei per la Sicilia, somme fondamentali che fanno di tutta la vicenda l'ennesimo increscioso autogol dell'isola che, se non riuscisse a mettersi in regola, dovrà pagare la stessa cifra anche nel 2017. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a due anni e otto mesi per l'ex presidente dell'Arso, oggi deputato regionale Francesco Cascio, accusato di corruzione. Cascio viene processato con il rito abbreviato davanti al gruppo Guglielmo Nicastro. Secondo la Procura di Palermo, nel 2002, mentre era assessore al turismo e vicepresidente della regione nel governo Cuffaro, avrebbe consentito a una società titolare di un resort e di un impianto sportivo adibito a campi da golf di ottenere fondi europei. In cambio, l'esponente politico avrebbe ricevuto in regalo una villetta collesano. La vicenda del serbatoio di Contrada a Rocciola Scrofani, che serve il quartiere Sorda, tiene ancora a banco. Da un lato c'è il dirigente dell'ufficio idrico, Giorgio Modica, che punta il dito contro il consorzio di Bonifica 8 di Ragusa per tutti i disagi e i disservizi che ci sono stati in questi mesi. E dall'altro, invece, c'è il consorzio di Bonifica, con il direttore Giovanni Cosentini, che tiene a precisare quanto detto oggi ai nostri microfoni. Vediamo il servizio. Abbiamo diversi decreti giuntivi fatti nei confronti del Comune, quindi è una procedura aperta per cui andremo a risolvere la questione dal punto di vista, chiamiamolo, giudiziario in questo senso. Ma stiamo, come dicevo prima, attivando anche una procedura per la revoca e per la recetta da questo contratto col Comune. Dunque è molto chiaro il direttore del consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, Giovanni Cosentini, per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua al Comune di Modica. Il dirigente dell'ufficio idrico, Giorgio Scollo, però tiene a precisare che le prove di riempimento del serbatoio di contrada a Roccio Lascrofani, che serve tutto il quartiere Sorda, sono iniziate solo a fine agosto, quando il consorzio ha iniziato a derogare l'acqua. E solo in quel momento, dice Scollo, è stato possibile provare le arreali condizioni in cui versava il serbatoio, trovando numerose perdite che per fortuna sono state riparate. Ieri finalmente abbiamo finito di riempirlo, ha aggiunto il dirigente del Comune di Modica. Analizzeremo l'acqua e se è potabile da lunedì prossimo sarà erogata. Per Scollo dunque la colpa è del consorzio di Bonifica, che in una nota inviata al Comune di Modica e protocollata lo scorso 29 giugno, specificava che il disservizio era stato causato dalla mancata personale H24 per la potabilizzazione dell'acqua. Ma su questo punto Cosentini risponde così. Nel mese di luglio, il 12 luglio, il sindaco di Modica ritenne di emettere un'ordinanza, proprio perché c'è stata questa carenza di erogazione, ordinando al consorzio di ripristinare l'utilizzo. Per la verità ci è sembrato molto strano quest'atto amministrativo e quest'ordinanza di imperio del sindaco di Modica, che evidentemente i suoi funzionali non gli hanno fatto leggere le carte in maniera quantomeno compiuta e seria, perché ordina al consorzio di ripristinare l'acqua per il suo Comune. Il consorzio non ha nulla a che vedere con l'acquedotto comunale. Come dicevo prima, il consorzio deve solo, quando ha la possibilità, potenziare quello che il Comune già deve di per sé garantire. E quindi rispetto a questa ordinanza, noi l'abbiamo impugnata in anzaltare, ci ha dato pienamente ragione dicendo che il Comune deve farsi la sua strada col suo acquedotto. Il consorzio potenzerà quando e se potrà potenziare l'acquedotto comunale del Comune per la zona di Mauto e la zona di Sclofone e quindi dando totalmente ragione al consorzio ha cancellato questa ordinanza del sindaco. Insomma, dopo un anno dalla consegna del serbatoio di contrada a Rocciola Sclofani all'amministrazione comunale, i conti non tornano e qualche pezzo manca al puzzle. Si dovrebbe anche capire perché dal settembre 2015 al maggio 2016 il serbatoio si è rimasto fermo. Comunque c'è anche l'aspetto economico della vicenda da non sottovalutare. Il Comune deve tantissimo denaro al consorzio di bonifica proprio per l'effetto di questo acquisto di acqua che fa da noi. Che lì, lo torno a ripetere sempre, c'è questa anomalia. Il Comune preleva l'acqua dal consorzio, poco o molta che sia. Non la paga, la dà ai cittadini e dai cittadini raccoglie la tariffa, raccoglie la bolletta idrica. C'è qualche cosa che non inquadra e che evidentemente sarebbe opportuno che magari ci sedessimo attorno a un tavolo assieme istituzionalmente col Comune per chiarire queste cose. Da Modica a Santa Croce Camerina, dove la sindaca Franca Iurato risponde all'interrogazione presentata dall'onorevole Nello Musumeci che chiede l'invio di un commissario al Comune per verificare l'iter di applicazione della legge regionale 13 del 2015 relativo alla variante al PRG. La sindaca di Santa Croce Camerina, Franca Iurato, ha aperto le porte del Comune all'onorevole Nello Musumeci, invitandolo con la massima disponibilità a fornirgli tutta la conoscenza piena e completa di tutti gli altri relativi alla variante generale al PRG della città di Santa Croce Camerina. L'invito del primo cittadino arriva dopo l'interrogazione presentata dal capogruppo della lista Musumeci a Lars, Nello Musumeci, che chiedeva l'invio di un commissario al Comune per verificare l'iter di applicazione della legge regionale 13 del 2015. Secondo Musumeci, la Giunta Comunale ha fornito una libera interpretazione di quanto stabilito dalla legge, il cui iter prevede che la Giunta Municipale dia l'atto all'ufficio tecnico per realizzare la variante e che questa deve essere votata dal Consiglio Comunale. Non esiste però, continua Musumeci, agli atti una documentazione che attesti l'elaborazione della variante al PRG. Il Consiglio Comunale ha dunque bocciato la proposta dell'ufficio tecnico, ritenendo ingiustificata la sua ingerenza in quanto di esclusiva competenza del Consiglio, così come stabilisce lo Statuto del Comune. Non si fa attendere la replica della Sindaca Iurato che in un posto sulla sua pagina Facebook pubblica, a prescindere dall'anomalia della richiesta di un commissario e non invece di un ispettore, trattandosi di dubbi di correttezze e non di inadempienze, poiché appare evidente, almeno da quanto riportato sulla stampa, che le informazioni riferitele sono quanto meno incomplete se non furbianti. Le dichiaro sin da subito la mia disponibilità ad ruffirle la conoscenza piena e completa di tutti gli atti relativi alla variante generale al PRG del mio Comune, affinché lei stesso possa, vista la sua notoria autonomia e serenità di giudizio, acclarare la legittimità del procedimento sin da ora posto in essere nell'esclusivo interesse della collettività. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa potrebbe applicare l'Istituto del Silencio e Senso per sbloccare i fondi per lo sviluppo e risenare il bilancio. Questa soluzione consentirebbe anche di far partire i servizi di propria competenza, i tempi però non sono immediati e intanto la CGL si mobilita per il prossimo 30 settembre. Il Silencio e Senso è l'Istituto giuridico che consentirebbe al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di sbloccare i fondi destinati allo sviluppo del territorio ebleo. Circa 4 milioni di euro ricevuti come compensazione per i danni subiti per lo sfruttamento del territorio consentirebbero di risanare il bilancio e di far ripartire i servizi. Il cambio di destinazione d'uso lo prevede una legge dello Stato per gli enti in grosse difficoltà. L'atto dovrebbe essere autorizzato dalla regione ma finora nessuna risposta è arrivata da Palermo. In mancanza di una risposta negativa si può applicare quanto previsto dalla giurisprudenza ma i tempi tecnici non sono brevi quindi il servizio di trasporto e assistenza ai 210 studenti disabili non potrà partire in tempi celeri. Per questo l'assemblea convocata dalla CGL Stamani a cui hanno partecipato le associazioni, il forum, terzo settore e le famiglie degli studenti ha deciso di promuovere una mobilitazione imponente per il 30 settembre prossimo a Ragusa. Un corteo giungerà in prefettura per chiedere la convocazione di un tavolo tecnico allargato ai deputati regionali e nazionali e ai sindaci blei. La novità è che coinvolgeremo anche i sindaci anche se sappiamo che la competenza in questo momento ricade sull'ente e sull'ex provincia ma i sindaci devono essere sensibilizzati quantomeno alla problematica. Sono cittadini, sono studenti di tutta la provincia e quindi è indispensabile anche il supporto non solo morale ma anche una presa in carico da parte dei sindaci che inviteremo a questa manifestazione. Per quanto riguarda i fondi si diceva che dopo l'approvazione della mini finanziaria qualcosa sarebbe arrivato ma allo stato attuale qual è la situazione? C'è stata un... si parla di poco meno di 2 milioni di euro per tutta la regione, per tutte le province e i territori. Quindi è una cifra assolutamente irrisoria che fra l'altro tecnicamente andrebbe già nel nostro caso a coprire l'esposizione che l'ente ex provincia ha fatto per il servizio dell'anno trascorso. E adesso andiamo a Catania dove protestano i lavoratori del call center. 600 madri e padri di famiglie rischiano di rimare a casa dopo aver prestato con professionalità e serietà il loro servizio per il call center QE, realtà importante nel territorio di Paternò che è partita con 50 impiegati, oggi conta per l'appunto 600 lavoratori che però sono stati abbandonati dalle istituzioni alle quali chiedono un maggior impegno. Lo hanno ribadito questa mattina con un corteo e lo ribadiranno nei prossimi giorni a Roma. Perché chi doveva controllare non ha controllato. Arrivare al punto che un'azienda presenta un bilancio di 6,5 milioni di euro di debito soprattutto di evasione fiscale con l'IVA è paradossale in uno stato democratico e libero come il nostro, con delle leggi precise. Oggi questi ragazzi protestano per il loro diritto al lavoro, per il loro diritto di continuare ad essere persone con una propria dignità. Ovviamente noi quello che stiamo chiedendo ormai da diverse settimane è quello di aprire, le istituzioni devono aiutarci, i politici devono aiutarci ad aprire un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi siamo venuti a conoscenza che tutto quello che doveva essere dato ai lavoratori è stato portato all'estero o addirittura investito in altre società che avevano dei debiti. Quello che stiamo facendo sta avendo un eco abbastanza importante. Mercoledì saremo al Ministero, martedì siamo a Palermo, alla Regione, quindi dobbiamo tutelare. Non vogliamo stare da soli. C'è la cronaca, sono stati arrestati due spacciatori a Santa Croce e Camerina. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri. Sono stati arrestati due pusher che spacciavano sostanze stupefacenti in pieno centro a Santa Croce e Camerina. Teatro dell'attività illecita e la via Caucana e Giardino che saltano nuovamente agli onori della cronaca per una nuova operazione antidroga. I carabinieri hanno notato un'automobilista che all'interno della propria vettura si è fermato a parlare in due momenti diversi con dei ragazzi di origine tunisina. Subito un'auto dei carabinieri ha seguito e raggiunto l'acquirente, un ventunenne ragusano che già in passato e gli stessi militari avevano arrestato per droga. Il giovane aveva appena acquistato hashish e marijuana di intero quantitativo e stato subito sequestrato dai carabinieri che hanno proceduto nel volgere di pochi minuti a bloccare i pusher. Gli spacciatori sono stati infatti accerchiati dai militari in borghese proprio mentre stavano vendendo un altro pezzo di hashish ad un secondo acquirente, un giovane tunisino del luogo. Tutti e quattro sono stati portati in caserma. I due acquirenti sono stati segnalati al prefetto quali assuntori. Il ragusano, se scoperto in caserma, aveva ordinato la merce col telefonino già da Ragusa utilizzando messenger. Avuta conferma della disponibilità, era sceso a Santa Croce Camerina a rifornirsi di droga. I due spacciatori, ovvero Omar Karui e Muez Navli, entrambi ventunenni tunisini già noti ai carabinieri per questioni di droga, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Ai due sono stati sequestrati 110 euro e quasi 10 grammi tra hashish e marijuana. Al termine dei rilievi fototattiloscopici di intesa con il pubblico ministero, la dottoressa Monica Monego, i due sono stati associate al carcere di contrada pendente a Ragusa in attesa di convalida. Le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per evasione dall'obbligo degli arresti domiciliari. Durante un servizio di pattugliamento nel capoluogo notavano all'interno di un bar in pieno centro intere intento a bere una bevanda. L'uomo pluripregiudicato è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di evasione. Nel contempo il PM di turno Monica Monego ha disposto la reclusione presso il carcere di Ragusa. Rieccoci in studio, andiamo a Comiso dove sono arrivate alle 13.30 le frecce tricolore all'aeroporto Pio La Torre. Per noi l'inviata Carmela Minardo. Una piccola esibizione nei cieli di Comiso e poi hanno toccato terra le frecce tricolore giunte puntualmente alle 13.30 all'aeroporto Pio La Torre. Ad attenderli in naso all'insù anche 45 scout della GESCI di Ragusa che hanno potuto incontrare i piloti nella sala conferenze dell'aerostazione. Dopo sette anni torna a sfrecciare nel cielo ebleo la pattuglia acrobatica che presenta un programma di volo tra i più belli ed apprezzati al mondo. L'ultima esibizione risale al 2009 a Marina di Ragusa. Adesso sarà Donna Lucata ad ospitare l'evento a partire dalle 15 sino alle 18. Cresce quindi l'attesa per vedere all'opera il 313esimo gruppo di addestramento acrobatico frecce tricolori che emozionerà con il suo air show regalando acrobazie spettacolari al pubblico presente che si preannuncia numeroso. Domani avremo le prove, manifestazione si prevede un'esibizione delle frecce tricolori 10 venivoli che si esibiranno lungo mare lì a Donna Lucata e prevedono 18 manovre acrobatiche e speriamo di divertire il pubblico. I 9 aerei e un elicottero saranno ospitate all'aeroporto di Comiso e poi nel primo pomeriggio si leveranno in volo per raggiungere il litorale di Donna Lucata con il porticciolo della borgata marinara che fungerà da base operativa. Sicuramente tanto lo stress anche fisico a cui siete sottoposti quando fate queste esibizioni? Siamo sottoposti, chiamiamo in gergo G, quindi accelerazione di gravità e il solista quello che ne subisce un po' di più arriva fino a 7 la formazione è un po' meno però diciamo che mediamente subiamo la formazione che va da 1 a 7 G il solista da meno 3 a più 7 G. Per dirlo in breve il proprio corpo viene accelerato di 6-7 volte. Quindi ci vogliono tanti punti di riferimento in che modo vi orientate? Ecco sul mare è un po' più particolare perché su terra soprattutto io da capo formazione ho un modo di prendere un po' di riferimenti al suolo, su acqua non ci sono. Per cui le predisposizioni che sono fatte sul mare sono mettere giù delle boe, delle barche e quelli sono gli unici riferimenti che dovrò prendere per fare l'esibizione. Le partecipate del comune di Catania da oggi possono contare su nuovi presidenti e nuovi CDI. Ieri infatti sono state ratificate le nomine che riguardano ASEC, ASEC Trade, AMT, Multiservizi e SIDRA. Vediamo. Cambio e vertici delle partecipate catanesi, nomini che erano attese e che certamente hanno sorpreso non poco soprattutto gli addetti ai lavori. A rinnovare queste cariche il comune di Catania in quanto socio unico, a cambiare sia presidenti che CDI. E allora procediamo per gradi partendo all'ASEC SPA al cui vertice è stata nominata Francesca Garigliano, avvocato penalista. Nella CDI fa parte il dottore Concetto Russo, docente alla formazione e presidente del Consiglio Comunale dei Tre Castagni. Il nuovo presidente di ASEC Trade è invece l'avvocato cassazionista Giuseppe Marletta e del CDI fanno parte l'imprenditore Giovanni Lamagna, già senatore accademico, e la commercialista Laura Vassallo. Alla Multiservizi è stato indicato il dottore Giovanni Giacalone, funzionario pubblico con una vasta esperienza amministrativa. Del CDI fanno parte inoltre Sebastiano Gazzo, avvocato presidente del CSI e Francesca Giuffrida, anch'essa esperta della macchina comunale. Al vertice dell'MT è stato nominato Puccio Larosa, avvocato esperto di diritto civile del lavoro e tributario, già più volte impegnato nell'amministrazione comunale. Nella CDI ci sono il presidente uscente Carlo Lungoro e l'imprenditrice Raffaella Mandarano. Il nuovo presidente è la sidra, infine Alessandro Corradi, avvocato esperto di diritto civile, amministrativo e tributario, con esperienze amministrative. Del CDI fanno parte Gaetano Marziano, funzionario dello Stato e dirigente sindacale, ed Eugenia Messina, funzionaria del Comune. E a proposito dell'MT, il sindaco di Catania, Enzo Bianco, è soddisfatto del primo vertice che si è svolto ieri nella sede dell'assessorato al bilancio. Si è parlato dei fondi che la regione deve erogare all'azienda municipale Trasporti, all'incirca 20 milioni di euro. E' arrivata oggi la giudicazione definitiva in merito alla gara d'appalto relativa alla gestione del servizio di Netterzo Urbana per i prossimi sette anni a Modica. Oggi l'Urega ha convocato tutte e dieci le ditte che hanno partecipato, confermando la IGM di Siracusa come la prossima ditta che gestirà questo fondamentale servizio per la città di Modica. Finalmente partirà la differenziata su tutto il territorio, ha detto il sindaco, sarebbe l'unica città della Sicilia ad avere la differenziata porta a porta sia in città che nelle campagne. E adesso ci vediamo un servizio del nostro ufficio commerciale. Il giorno del sì deve essere un giorno perfetto, con tutto organizzato al meglio, dalla location al catering, dagli abbi, dagli addobbi, passando per allestimenti, auto, bomboniere, tutto ciò che comporta l'organizzazione di un matrimonio. E dopo? Dopo serve poter avere un nido d'amore arredato secondo le esigenze degli sposi, ma anche seguendo tutte le novità del settore. Tutto questo vi procura ansia? Non preoccupatevi, basterà recarsi al 30 settembre, al 2 ottobre, presso Etna Fiere, a Etnapolis, e visitare Wedding & Living, il salone della sposa e della casa organizzato anche quest'anno da Barbara Mirabella e la sua Expo. Siamo molto orgogliosi di aprire l'anno fieristico del centro fieristico di Etna Fiere, proprio con un salone organizzato da Expo, il salone della sposa, della casa, forse uno degli eventi anche più amati, probabilmente per il tema così romantico. Un salone nuovo, un salone che inizia già in questi giorni, perché in galleria al centro Etnapolis abbiamo uno spazio dove stiamo raccogliendo tutti i baci per il nostro contesto Baciami. Le spose, i futuri sposi, gli uomini, le donne che verranno a visitarci potranno toccare con mano la qualità della casa del 2017, il gusto, il glamour di scegliere una villa per ricevimento, piuttosto che l'hotel, il matrimonio tradizionale siciliano è al centro, sempre con un occhio strezzato al budget, ma con grande attenzione alle tendenze. Wedding & Living apre la stagione degli eventi fieristici, si proseguirà con Expo Bimbo dal 14 al 16 ottobre. Il salone compie quest'anno 10 anni, Expo Bimbo è una grande realtà siciliana per le famiglie di tutto il sud Italia e certamente dopo il successo del nostro salone Cambio Vita abbiamo voluto dare un taglio green inevitabile per tutti coloro che mettono su famiglia e hanno attenzione per i propri piccoli. Dall'animazione che avrà un tema di riciclo alla riscoperta dei giochi antichi, ma soprattutto al tema della formazione e informazione per la mamma e i bambini. Organizzare eventi come Expo Bimbo, come Wedding & Living rappresenta una grande attrattiva per il territorio, una grande ricaduta economica per il territorio, anche ovviamente per Etnapolis, con la cura dei dettagli, l'eleganza, la promozione e il marketing che hanno sempre caratterizzato Expo. Era l'ultimo servizio di questa edizione di MTG, grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani. Cambia ora l'edizione serale di MTG, dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS